Anticipazioni Beautiful, trama puntate, sabato 11 settembre 2021. Nell'appartamento di Flo, Shauna e Queen sono felicissime, sono entrambe diventate le mogli di due potenti uomini Forester. La Fulton però precisa che il suo matrimonio è stato costruito su una bugia. Alla Forest Creation, Ridge fa sapere a Zoe di essere molto felice che stia frequentando Carter. Katie entra e confida allo stilista di stare molto male per quello che gli hanno fatto Villa e Brooke. Nonostante questo, crede che Shauna abbia tramato per diventare la nuova signora Forester. Brooke intanto passa a Villa Forester dove incontra Eric. L'uomo afferma di essere rimasto molto deluso da Queen e di vederla in maniera diversa ormai. Poco dopo entra Ridge. La Logan gli chiede se davvero Shauna la donna che vuole. Nel frattempo Queen prende il telefono e esorta qualcuno a raggiungere la Villa. Poi vede Brooke in lacrime chiedere a Ridge di tornare a casa con lei per sempre. Eric raggiunge Katie alla Forester. Lei lo rassicura supererà anche questo delicato momento come d'altronde ha già fatto tante volte. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.